Francesco Panzieri, supervisore del compositing per gli effetti visivi di film come Indiana Jones, Guerre Stellari, Spider-Man e tanti altri, in visita in questi giorni a Pescara da Los Angeles grazie ad una mirabile iniziativa dell'Adricesta Onlus della Presidente Carla Panzino. Ha incontrato questa mattina i piccoli degenti ricoverati all'ospedale di Pescara regalando loro sorrisi e momenti di svago. Sono più che felice di condividere con tutti questi bimbi un po' meno fortunati tutte queste avventure sulle quali abbiamo lavorato e soprattutto cercare di incoraggiarli se volessero mai intraprendere una carriera del genere. Io mi ricordo quando tanti tanti anni fa studiavo all'Aquila che ci furono professionisti americani del settore che vennero e ci motivarono a inseguire i nostri sogni. Ho preparato una piccola infarinatura sugli effetti visivi, quindi come si preparano, come vengono girati, come vengono preparati prima, durante e dopo la produzione, ovvero il filming. E poi parleremo di qualche film su cui ho lavorato, Uomo Ragno, Spider-Man, Far From Home, Homecoming, poi un po' di Avengers. Parleremo anche di Indiana Jones, molto. Dimostrerò varie tipologie di effetti speciali per praticamente far capire loro un po' come vengono sviluppati e come si approcciano a determinate situazioni. Ogni bambino qui in ospedale è un supereroe nel quotidiano della sua vita insieme ai suoi familiari. Per cui questa unione dai supereroi della vita di tutti i giorni ai supereroi fantastici che vediamo sui grandi schermi del cinema si incontrano. Pranzieri svelerà le magie del cinema e i bambini forse racconteranno le magie che devono affrontare ogni giorno nella malattia. E' una cosa bellissima per me perché rientra negli intenti primari della ricesta che sono quelli dell'umanizzazione dell'ospedale, specialmente nei reparti pediatrici. Ma io non voglio dimenticare neanche quelli di geriatria e neanche degli adulti. Ma soprattutto per i bambini rendere meno tediosa l'adeggenza ospedaliera, non solo con apparecchiature diagnostiche meno invasive o con ambienti colorati, ma soprattutto anche con momenti di gioco, di svago e di allegria.